Per consolidare il primato in classifica Alessandro Lucarelli senza lo squalificato Marco Mariani si affida a Spadafore Galli in attacco contro il Capistrello. Il Chieti conferma il 3-5-2. I maggiori pericoli per la difesa rovetana arrivano dai corner. Verna dalla banderina Fanti che appoggia direttamente sul legno le prime avvisaglie di un Chieti già in grande spolvero che passa in vantaggio con Matteo Consorte il colpo di testa vincente del difensore nero verde Consorte il nono calciatore del Chieti ad andare a bersaglio in questo mini torneo numeri eccezionali per il Chieti il corner di Verna la spizzata di Galli e il gol di Consorte. La reazione del Capistrello sui piedi di Francesco Di Renzo squadra di Paolo Giordani che si affida alle incursioni di Franchi Salvati e Lombardi a Cirelli con assegno contro l'Aquila. Quindi inizia lo show personale di Manfredo Pietrantonio tra i migliori in campo anche con il Capistrello incontenibile sulla fascia mancina. Intervento di Fantozzi e Spadafora che si scontra con Federico Fanti ma da rimarcare al solito lavoro i rifornimenti continui di Pietrantonio Chieti a caccia del raddoppio. Tutto fermo già prima che Silvestri depositi in rete sul fronte opposto dopo la magia contro l'Avezzano da calcio da fermo ancora Manfredo Pietrantonio un mancino terrificante Federico Fanti che si oppone ed evita prima dell'intervallo il 2-0 del Chieti che conduce nel primo tempo grazie al gol di Consorte. Il solito Pietrantonio al suo fianco c'è anche Verna per la battuta del piazzato dal limite dell'aria va all'esterno sinistro del Chieti solo esterno della rete ma a Fanti battuto l'ex portiere dell'Avezzano che compie però un autentico miracolo un prodigio su Verna servito da Lorenzo Farindolini a botta sicura. Il centrocampista strepitoso come un gol distinto Federico Fanti che salva il capistrello meditabondo Paolo Giordani ad almanaccare su possibili cambi dall'altra parte l'ingresso di Mattia Rodia per Spadafora subito in partita nella combinazione con Galli. Il Chieti però spreca il capistrello prova ad approfittarne con l'affondo di Daniele Di Girolamo il salvataggio strepitoso di Matteo Forti in una delle rare occasioni in cui la difesa del Chieti si è fatta cogliere in preparata ottimo l'intervento di Forti. Quasi la fotocopia del gol del vantaggio sul corner di Donatangelo stavolta la sponda di testa non è di Galli ma di Icramella nel frattempo che aveva preso il posto proprio del capitano Teatino Rodia anticipa tutti e sigla il 2 a 0 il gol della tranquillità per il Chieti che vuole il Tris. Ci prova anche con il mancino Nicolò Corticchia prima del tocco delizioso nel profondità d'opera di Anasi Cramella a pescare ancora Mattia Rodia doppietta per lui con la conclusione ad incrociare sul palo lontano doppio assist per Anasi Cramella. Festa Chieti che mantiene la testa Lucarelli risparmia Luca Fabrizi che resta addirittura in panchina miglior difesa del campionato miglior attacco con una media partita che rasenta le tre marcature numeri da grande numeri da capolista allo stadio Angelini Chieti batte Capistrello 3 a 0.